Credo che ci sia molta difficoltà, e questo emerge anche tra i personaggi sull'autobus, di riconoscersi nell'altro e quindi questo secondo me è il vero deficit di questo libro, cioè non tanto la prosopagnostia quanto la difficoltà degli esseri umani di dire che sono sempre affiancati di esseri umani. Una malinconia che porti esattegno disegnando i platozetti di vita romana, quelli dei mercati rionari, gli altri dedicati alle impossibili mobilità di Roma, che in prigione sequestra migliaia di individui isolandoli dal resto del mondo. Gli amori infelici non finiscono mai, raccoglie anche la cronaca della rivolta degli uomini in blu. Gli autisti dei mezzi pubblici, le piazzette viaggianti, trasportano qua e altrove storie, sofferenze e passioni, attraversando la città e raccontando la storia di un amore impossibile, consumata nell'attesa di riconoscersi. Siamo a Roma nel 1683, la morte misteriosa di un viaggiatore, a Locante, dal Via al Giallo, la cui soluzione è affiliata ad un agente segreto delle sole che agisce sotto le mentite spoglie di Abate. Non è semplice un comicidio, ma il cuore di un intrigo internazionale, mentre i turchi premano le porte dell'Europa cristiana diversi secoli dopo un anziano prelato svelerà il grandioso complotto. È tutto, prossimo appuntamento con le informazioni.